Il bandistico riesce a formarsi un anno fa sotto la direzione del maestro Angelo Spitali. Dal maggio del 2009 prende la direzione anche il maestro Giuseppe Romano. Quest'anno è nato il sodalizio fra le due bande, Cefalatiana e Montedoro. Quindi, migliore occasione della festa del patrono per presentare le due bande e in questo caso la direzione del maestro Romano. Vi auguriamo un buon concerto e buon proseguimento della festa. Grazie. 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 Grazie.